Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla statale 223 di Paganico, a causa di un incidente, è provvisoriamente chiuso il tratto al chilometro 29 e 900 nei pressi di Civitella Paganico. Sulla Fipilì, chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia, provenendo da Firenze. E ricordiamo che questa notte, dalle 22 alle 6, sarà chiuso per lavori il tratto tra Empoli Est ed Empoli, in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Infine, fare attenzione per nebbia a banchi, segnalata sulla Fipilì, tra Santa Croce, sull'Arno e Livorno, poi tra la diamazione Pisa-Livorno e Pisa-Centro. Oversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!